Ciao a tutti, vado a presentare oggi questo libro di Stefano Gillardino e di Tsunami dedicato agli Stranglers, un gruppo che è nato in piena era punk nel 77 e ha rappresentato l'ala più sperimentale, se vogliamo, comunque duri, violenti, ma anche con molte tastiere che ricordavano anche gli anni 60, alcune cose proghe eccetera. Si sono poi evoluti verso un'elettronica molto raffinata, hanno proseguito nel corso degli anni e sono sopravvissuti a molti cambi di formazione, purtroppo negli ultimi anni hanno perso due membri storici come Jack Black e Dave Greenfield che ci hanno lasciato recentemente, ma la venda è tuttora in attività e continua, insomma, vintuosamente a rappresentare una storia ormai lunghissima, quasi 50 anni. The Stranglers, Uomini in Nero di Stefano Gillardino ne ripercorre tutte le tappe, discografiche, pieno di aneddoti, foto, un'ottima grafica, è un libro molto interessante per conoscere un gruppo altrettanto importante e interessante. Poi volevo segnalare questo disco di Maria Messina che è uscito un po' di tempo fa ma che è molto particolare perché così abbraccia un po' il mondo cantautorale da Carmen Consoli a Torri Amos con un po' di sperimentazione e con tantissima personalità. Ciao a tutti! Grazie!